ci sta capitando di tutto però quando poi porti a casa da tre punti in questa maniera hai la conseguenza di essere una ottima squadra non tutti avrebbero reagito al doppio gol subito in cinque minuti soprattutto contro una squadra che si è difesa bene ripartiva benissimo penso che il mister danese a cui anche in passato ho fatto i complimenti l'aveva preparata veramente bene e a fine primo tempo aveva avuto ragione poi c'è stato il carattere la determinazione la voglia della squadra dell'atletico battivaglia che è venuta fuori e siamo riusciti addirittura a ribaltarla in dieci oggi è venuta fuori la voglia il carattere oggi qualcuno magari ha giocato un po' sotto tono ma è da giustificare perché c'era una pressione nel vincere questa partita diciamo che era un dentro fuori continuiamo a lottare continuiamo in queste altre cinque finali che mancano alla fine del campionato e alla fine tireremo i conti mercoledì ci aspetta un altro grande impegno che è la semifinale di ritorno di Coppa speriamo di poter andare a giocarci la finale di questa Coppa prestigiosa